L'umanità si sviluppa come risultato dell'accrescimento dell'egoismo, pertanto unicamente dai giorni della Rì fino a noi, ad oggi, noi siamo pronti per la correzione dell'egoismo, perché l'egoismo è arrivato a un punto dove già ci infastidisce, per questo siamo entrati nel nostro sviluppo in una caduta, la repressione del prossimo, eccetera. Siamo arrivati ad un punto dove il mondo è in un pericolo di distruzione, diciamo non distruzione completa, però perlomeno crisi che appaiono nel mondo, che arrivano a esprimersi e nessuna mente serve di fronte al nostro egoismo stretto e la conclusione principale è che bisogna arrivare ai nostri giorni, è che c'è mente ed emozione, noi siamo governati dall'emozione, l'uomo moderno, adulto, che è arrivato ad uno sviluppo scientifico, il progresso, che è capace di fare tutto, che è formato e che lui tira fuori dalla natura tutto quello che ha bisogno per la sua esistenza, ugualmente lui distrugge se stesso il suo ambiente e si mette in uno stato che è sul punto di distruggersi, perché la sua emozione non è corretta e nella mente può creare tutto tipo di teorie, lui può costruire questi mezzi incredibili per migliorare la propria vita, però l'emozione non si corregge ma diventa peggiore e peggiore tutto il tempo e non si può fare con questo niente, risulta che nonostante che l'uomo è formato, è intelligente nella sua mente pura, però se guardiamo l'emozione siamo uomini primitivi completamente, siamo i peggiori dei peggiori, perché l'emozione non è sotto il nostro dominio ma siamo sottomessi all'emozione e la cavola dice che l'uomo è stato creato emotivamente per occuparsi del desiderio e la mente ci è stata data, perché se noi vogliamo per mezzo della mente in qualche maniera dare una forma corretta a questo desiderio, correggerlo, connettere i desideri, lo stesso ad un sistema chiamato Adam o Neshama, però se noi non correggiamo questi desideri allora la nostra mente sarà sotto il suo governo, il dominio dell'emozione e quindi arriveremo a conseguenze cattive, come noi vediamo, così che speriamo che per mezzo dello studio della saggezza della cavola che possiamo spiegare a noi stessi e agli altri che in realtà noi siamo dominati dalle emozioni e la mente non può fare niente contro le emozioni, è qualcosa di completamente secondario, l'emozione è la base e risulta, come è scritto, ho creato l'inclinazione dal male e noi lo riveliamo e per questo siamo sotto l'influenza dello sviluppo di desideri egoisti non corretti e tutto il tempo arriviamo a vicoli ciechi, alla disperazione, crisi e se noi riveleremo che il nostro desiderio, la nostra emozione è quella che ci domina, allora noi potremo essere stanchi di noi stessi e studiare il sistema dei desideri, il sistema dei desideri connessi reciprocamente, questo rappresenta l'anima rotta dell'uomo o il peccato e quindi scopriremo che i nostri desideri rotti sono questi, la base di tutta la materia, del grado di Adam più elevato e rotto, noi siamo sotto l'influenza di desideri più bassi del grado animale, vegetale e animale e è per questo che tutta la natura soffre insieme a noi e tutto si può correggersi nel grado di Adam e Adam, l'uomo che in maniera pratica ha distrutto la natura nel grado inanimato, vegetale e animale, così se lui corregge se stesso corregge la natura e per questo fino a che noi non correggeremo il nostro desiderio, non succederà nulla con la nostra vita e tutto il tempo entreremo in un grande egoismo sempre più grande fino ad arrivare ad uno stato di essere minacciati di distruzione.